Hanno prestato giuramento a Sala delle Lapidi Giampiero Cannella, Maurizio Carta, Dario Falzone, Sabrina Figuccia, Andrea Mineo, Giuliano Forzinetti, Salvatore Orlando, Rosi Pennino, Arisside Tamaio, Antonella Tirrito. Eccola la giunta del neosindaco Roberto Lagalla, ma colpo di scena oggi pomeriggio non sono state assegnate le deleghe. Saranno assegnate sabato durante la prima seduta, ha detto il sindaco, vogliamo evitare frazionamenti di deleghe. Il primo impegno è quello di distribuire a ciascuno una delega coerente con i processi che dovranno gestire e con i modelli organizzativi dell'amministrazione. Lagalla ha tenuto per sé fondi extracomunali e programmazione statistica, polizia municipale e la gestione del piano di riequilibrio che verrà affrontato con il professore universitario Salvatore Cincimino. Mentre le uniche deleghe già assegnate restano quelle della meloniana deputata nazionale di Fratelli d'Italia, la vice sindaca Carolina Varchi, che si occuperà di bilancio, legalità, beni confiscati e società partecipate. Il sindaco Lagalla ha ribadito, vogliamo rendere coerenti queste deleghe con il lavoro e l'articolazione degli uffici, per ogni ramo ci porremo degli obiettivi che valuteremo semestre per semestre. Grazie a tutti.